Nelle prime ore di questa mattina gli agenti della squadra mobile del commissariato San Giovanni Barra hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 37 persone gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco aggravati. Il provvedimento cautelare ricostruisce l'esistenza del cartello criminale Rinaldi Reale Formicola operante prevalentemente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio ma con ramificazioni in altre zone della città di Napoli nell'ambito della sfera di influenza, direzione e controllo dell'alleanza di Secondigliano in contrapposizione con il clan Mazzarella. Le indagini ricostruiscono attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed i riscontri, l'operatività del cartello e gli scontri armati con il clan Mazzarella a partire dalla seconda metà dell'anno 2014 fino al 2019. Attuati per il controllo delle attività illecite nell'area orientale della città di Napoli, nelle zone di Piazza Mercato, Porta Nolana, nonché nei comuni di San Giorgio a Cremano e Portici.